È ora di risplendere! Prendiamo diversi tipi di glitter, perline e sabbia per fare video al rallentatore con gli effetti più magici. Guarda il nostro nuovo video per scoprire quali glitter sono i migliori! Le nostre ragazze adorano tutto ciò che luccica! Ecco perché sono appassionate di una nuova tendenza! Nell'app TikTok ci sono molti video di glitter che si stanno lentamente diffondendo sull'obiettivo e brillano come per magia! Occhi blu e testa rossa continuano con la tendenza glitter! Quando finiscono di guardare tutti i video su TikTok, decidono di riempire il mondo di glitter! Ma lo faranno in modo scientifico! Le ragazze eseguiranno esperimenti con glitter di diverse forme e dimensioni per decidere quali siano i migliori in slow motion! Accendi il flash e sbargi i glitter sul telefono! Prima di tutto, diamo un'occhiata al grande luccichio di occhi blu! Assumi gli a stelle cadenti! Le stelle cadono sul telefono come una pioggia brillante! Poi testa rossa sparge delle minuscole stelle! Diamo un'occhiata al risultato! Queste piccole stelle sembrano più eleganti nel video! E la cosa migliore è che possiamo esprimere un desiderio in slow motion mentre le stelle stanno cadendo! Ora cambiamo! Per il prossimo round, Occhi blu prende dell'amica E testa rossa prende un sacchetto di coriandoli Vediamo chi otterrà il risultato migliore! Testa rossa ricopre il suo telefono con i coriandoli E Occhi blu usa la sua mica rosa che sembra polvere magica Ora guardiamo i video I coriandoli sembrano fiocchi di neve al rallentatore Ma l'amica ha un aspetto migliore Sembra che Campanellino abbia disperso la sua polvere magica E il telefono sta per volare via Questo scintillio è più spettacolare Testa rossa è sicura che non solo la mano con glitter può essere ripresa nel video Ma anche il suo bel viso Che ne dici di filmarla con i glitter davanti al suo viso? Luci! Camera! Glitter! Vediamo il risultato Testa rossa sembra incredibile nel video E ora convinciamo Occhi blu a posare per il video scintillante Ma lei non vuole esserci Testa rossa implora Occhi blu E lei accetta malincuore È ovvio che Occhi blu non ama la polvere scintillante Che viene gettata nei suoi occhi Dovremo cancellare questi video Ora proviamo con i colori Ogni ragazza prende due sacchetti di glitter di diversi colori Li mescoleremo e vedremo quale sfumatura è la migliore Proviamo I glitter rosa e blu creano lentamente un caleidoscopio colorato Ma l'oro e il rosa di occhi blu sembrano più lossuosi nello scatto È un tiktok adatto a una regina C'è un problema in questa sfida di glitter? Il video non è l'unica cosa che brilla I glitter sono dappertutto Occhi blu tira fuori un pennello per spazzare via l'eccesso Ma una nuova idea le passa per la testa Useremo il pennello per applicare i glitter Occhi blu prende i glitter con un pennello E Testa rossa ha un pennello piatto Vediamo come funziona questa tecnologia Le ragazze usano metodi diversi Per prima cosa fai scorrere il dito sulle setole di un pennello a ventaglio L'effetto è fantastico E poi tocca il manico di un pennello per cipria Delle piccole porzioni di glitter stanno cadendo Ora scambiamo i pennelli Il pennello per cipria fa uscire subito un sacco di brillantini E il glitter sul pennello piatto scendono come una nevicata magica Ci piacciono tutti i risultati Occhi blu sta spruzzando glitter sul tavolo Ma Testa rossa arriva e fa una piccola alluvione Ups! Mi dispiace amica! Ma si scopre che l'effetto di versare acqua sul video aggiunge dinamismo al nostro luccichio E un nuovo effetto speciale per un servizio fotografico brillante Occhi blu ha un'idea! Facciamo una fontana scintillante per la strada Metti glitter in una bottiglia con acqua E rilascia una piccola fontana verso l'obiettivo Ora è un'esplosione di emozioni scintillanti! Ma occhi blu pensa che questo non sia abbastanza Mette un sacco di glitter di un altro colore nell'acqua Accendi l'acquedotto Testa rossa Le onde scintillanti sono esplose dalla bottiglia È meraviglioso! Ma non abbiamo ancora finito con il nostro esperimento con l'acqua Occhi blu mette le stelle luminose nella bottiglia Le stelle sono esplose e decorano il pavimento E ora organizziamo un vero spettacolo d'acqua Le ragazze decidono di andare sotto la pioggia scintillante Le nostre ragazze sono pronte a filmare nuovi esperimenti Questa volta usano un treppiede E spargeranno i glitter non sul telefono ma sul tavolo Si chiedono come andrà a finire Iniziano con palline piccolissime Non male! Le palle saltano e rimbalzano contro la superficie E sono carine! Ora proviamo palline di un colore diverso Otteniamo una grandinata colorata Le palline luccicanti sembrano grandi su questo tavolo Diffondiamo i nostri cuori ora Occhi blu ha un intero mucchio di perline a forma di cuore Guardale cadere! I cuori rimbalzano sulla superficie in modo così divertente Sono impossibili da rompere Proprio come i nostri cuori Le ragazze stanno pensando a qualcos'altro da utilizzare Cosa ne pensi di pietrine colorate? Possono dare ad ogni video un bel aspetto Accendi il flash e gettale sul tavolo Queste pietre colorate brillano radiosamente sotto le luci Sono nate per essere stelle del cinema Le ragazze trovano due sacchettini identici con sfere d'argento Questo deve essere il destino Facciamoli a pezzi allo stesso tempo davanti alla telecamera Prepariamoci! Pronti? Partenza! Via! La raffica simultanea di palline nel video Va oltre le nostre aspettative È stato molto divertente Le ragazze sono inarrestabili I registi lanciano tutto ciò che viene messo nelle loro mani sul tavolo Occhi blu trova gli strass Decoreranno anche loro il nostro set Gli strass aggiungono un tocco finale a questo campo di bagliore Glitter e bellezza Le ragazze hanno troppe cose da filmare sul loro tavolo Gli occhi blu decide di soffiare sui glitter È una buona idea! Fallo verso la videocamera! Occhi blu soffia via la polvere scintillante Davvero spettacolare! E le ragazze amano il risultato Che ne dici di farlo di nuovo? Ma stavolta testa rossa suggerisce di soffiare i glitter dal palmo della mano Vediamo come andrà a finire Occhi blu soffia la polvere sul suo palmo Sembra delicata e carina È come una fata magica Un soffio e testa rossa è tutta coperta di glitter Essere una cinepresa è piuttosto difficile Ora è il turno di testa rossa di essere filmata Mette le paillette di diversi colori sul palmo della mano Testa rossa esala lucentezza e felicità L'effetto è assolutamente meraviglioso Le ragazze sono soddisfatte dell'idea Occhi blu ha un intero set di sabbia colorata Dobbiamo filmarlo subito Le ragazze creano un deserto colorato sul tavolo E poi soffiano sulla sabbia come un forte vento Questo coloratissimo deserto del Sahara sul tavolo ha un aspetto fantastico Le ragazze hanno preparato ciotole piene di Orbeez È ora di usarli per il nostro esperimento Al tre! Wow! Le palline si sparpagliano sul tavolo come un caleidoscopio colorato Non ti annoierai con una decorazione come questa Le ragazze stanno guardando i loro video E le guerre di Orbeez stanno continuando Ti sono piaciute le nostre idee brillanti per i video? Allora scrivi nei commenti quali brillantini, strass o sabbia colorata filmeresti con i tuoi amici E non dimenticare di mettere like a questo video Di iscriverti al nostro canale E di fare clic sulla campanella Per non perdere le nuove sfide di Glitter su Troom Troom Per non perdere le nuove sfide di Glitter su Troom